Ciao a tutti, sono Manuel Bergamo, vengo da Lecce, qui dietro l'angolo, oggi per vivere una giornata straordinaria insieme ad una persona straordinaria come Gianluca Spadoni e il suo staff, le persone che stanno intorno, e conoscere meglio in maniera più approfondita quello che effettivamente è questo meraviglioso mondo della formazione sul network. Un qualcosa di straordinariamente bello quello che abbiamo vissuto oggi perché ho toccato con mano e ho conosciuto San Patrignano che è una struttura che conosco da quando ero ragazzino, ne ho sempre sentito parlare e ho sentito parlare persone che ci hanno state dire delle cose fantastiche, ma adesso capisco, adesso capisco che cosa vuol dire San Patrignano, la sua potenza, la sua magia e quello che riesce a fare sulle persone, cambiare profondamente queste persone, migliorandole e facendoli diventare cittadini del mondo di grande qualità. Questa è stata veramente un'esperienza che spero e mi auguro possano dire quante più persone possibili perché veramente ti riempi il cuore, perché per me questo è successo oggi, bellissima energia ricevuta durante questa giornata. Poi tanta formazione, tanto condividere con le persone che facevano parte di questo gruppo, è stato anche molto positivo questo e l'Academy Online di Gianluca è uno strumento potentissimo che sono felice di poter sfruttare perché Gianluca è un concentrato di esperienza vissuta, vera, di quell'esperienza che veramente ha un valore immenso e quindi sono contento di poter attingere a questo strumento qua straordinario. Gli appuntamenti con Gianluca sicuramente a maggior ragione dopo oggi diventeranno sempre più frequenti perché stare con lui e con il suo mondo sicuramente vuol dire migliorarsi tanto, 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 tanto. Quindi mi raccomando fate modo di sfruttare anche voi questa opportunità. Ciao a tutti!